Giorgio Di Simone, Entità A, Rapporto dalla dimensione X La vita, la morte e l'aldilà, Mediterranee Come l'uomo, il quale può acquistare una vera esperienza soltanto quando la compie personalmente, perché le esperienze degli altri sono valide fino a un certo punto, così lo spirito, per avere l'idea della materialità, non può ricorrere ad un altro spirito e dirgli Ma che cos'è la materialità? Cos'è il mondo, l'universo? Si sentirà rispondere Calati nell'universo, penetra, digiriscilo l'universo, macerati in questa materia, finché nel profondo del tuo essere vibrerà l'idea di quella macerazione, di quella materialità e potrai dire veramente di avere capito che cos'è, com'è fatta questa idea che Dio ha conferito all'universo, quale espressione di realtà La vita, la vita, la vita, la vita Grazie a tutti